Dunque, per quanto riguarda la nostra carrellata sulla programmazione di oggetti in Python c'è chiaramente i due pattern di programmazione che sono abilitati dalla programmazione di oggetti che sono i paroloni come ereditaria di età e polimorfismo che non abbiamo ancora toccato e vediamo oggi come si traslano questi in Python quindi abbiamo visto come creare semplici classi però per sfruttare effettivamente la programmazione di oggetti dobbiamo capire come queste varie classi interdiscono tra di loro Allora, l'eretarietà Ricordiamoci, significa che io costruisco una classe andando a specializzare una classe madre una classe principale Specializzare una classe principale, una superclasse come diciamo, significa in pratica andare a costruire una nuova classe che eredita tutti quelli che sono le proprietà e i metodi definiti sulla classe principale, sulla classe madre e poi li può specializzare specializzare significa che può aggiungere proprietà può aggiungere metodi oppure può ridefinire dei metodi in un modo più specifico il cosiddetto overloading dei metodi Questo si può fare, che avete imparato a fare in Java si può fare in modo quasi identico in Python per specificare, ricordiamo che per definire una classe usiamo class e nome della classe se nella definizione della classe mettiamo tra parentesi il nome di un'altra classe e poi accenneremo che si può fare anche con più di una classe ma allora partiamo da una significa che la nostra classe sportscar è eredita dalla classe car quindi quello che in Java si scriveva extends qua è semplicemente il nome della classe la super classe tra parentesi quindi tutti in questo caso nella classe sportscar sono definiti automaticamente nel momento in cui lo dichiaro tutti i metodi che erano definiti nella classe madre poi in realtà non è esattamente così nel senso che quando io ho un oggetto della classe sportscar della sottoclasse quando provo a chiamare un metodo o a leggere un attributo in un oggetto della sottoclasse ciò che fa Python è di andare prima a cercare se questo metodo o attributo è definito nella sottoclasse se no ingaggia un metodo un processo di ricerca in cui va a cercare se quel nome invece è definito nella sua super classe quindi quando io prima ho detto che la sottoclasse eredita una coppia di tutto ciò che era già definito nella super classe in realtà non è vero semplicemente si ricorda chi è sua madre a chi è la sua classe madre per cui se ogni volta che cerchiamo un nome quindi di chiamare un metodo di leggere una proprietà sulla sottoclasse se questa viene trovata nella sottoclasse bene se non viene trovata nella sottoclasse viene cercata nella super classe quindi di fatto il concetto di super classe viene poi implementato a livello di ricerca di nomi all'interno degli oggetti però mentalmente possiamo tranquillamente dire che io ho un oggetto che praticamente ha la stessa implementazione di un altro oggetto della classe madre che però può sovrascrivere o raggiungere o modificare alcune delle proprietà che aveva una cosa importante quando devo ridefinire il comportamento di un oggetto da sottoclasse è chiaramente riuscire ad accedere ai metodi della mia super classe perché tipicamente non voglio andare a reimplementare tutto ok ma voglio andare ad aggiungere specializzare qualche cosa immaginiamo una classe punto car che ha rappresenta un'auto quindi il modello la marca eccetera quello che c'è sulle slide e se l'auto invece è un'auto sportiva mi interessa anche la potenza i cavalli oppure la velocità massima o qualche altra informazione qualche altra informazione significa degli attributi aggiuntivi e come definisco gli attributi aggiuntivi o gli attributi in generale li definisco nel metodo init self punto potenza uguale 400 cavalli quindi nel metodo init della sottoclasse ci dovrò se mi servono gli attributi in più li dovrò definire lì sotto ma se io avessi un metodo init della sottoclasse non verrebbe chiamato il metodo init della superclasse in quanto l'ho ridefinito nella sottoclasse che quando io definisco un metodo nella sottoclasse questo viene visto in base al principio di ricerca che dicevo prima il nome l'ho trovato nella sottoclasse bene sono contento finisce lì se non lo trovo lo vado a cercare nella superclasse quindi vuol dire che quando io ho un metodo di ugual nome nella sottoclasse e nella superclasse viene visto solamente quello della sottoclasse allora prendendo l'esempio del nostro attributo che vogliamo definire nel metodo init se io nel metodo init della classe dell'autosportiva volessi definire l'attributo potenza dovrei però anche ridefinire tutti gli attributi che già definiva la mia superclasse se no avrei solo la potenza e non tutti gli altri perché il metodo init della superclasse non viene chiamato in automatico non viene chiamato in automatico quindi è meglio se lo chiamo io cioè o mi rifaccio io tutto il lavoro in una sottoclasse ma allora tanto vale definire una sottoclasse non ne eredito nulla perché me lo reimplemento da zero oppure prima di specializzare vado a richiamare il comportamento precedente quindi tipicamente nel metodo init di una sottoclasse la prima istruzione è la chiamata del metodo init della sua superclasse che si può indicare come il nome del superclasse punto init oppure più comodo perché così non mi devo ricordare qual è la superclasse super che è una funzione che mi restituisce appunto il riferimento alla superclasse dell'oggetto che ho appena creato che sto creando dentro init quindi normalmente troverete che se costruiamo una sottoclasse definiamo una classe che rende un'altra un nostro metodo init se ci serve la cui prima istruzione sarà super punto init della superclasse quindi in questo modo io vado a definire sull'oggetto corrente che è un oggetto della sottoclasse tutti gli attributi che avrei definito se avessi comunque creato un oggetto della superclasse ma definisco il mio oggetto corrente perché sono dentro l'init di sports car e ne aggiungo degli altri se voglio vedete che poi dopo ne aggiunge un self punto speed quindi un attributo in più che ci sarà solamente sugli oggetti della classe sports car dobbiamo solo ricordarci appunto ogni volta che chiamiamo un metodo o definiamo un metodo che esiste anche nella superclasse la domanda che dobbiamo farci è lo sto totalmente rimpiazzando implemento qualcosa di nuovo o lo sto modificando o estendendo nel caso in cui lo stia estendendo o modificando allora conviene per potermi agganciare a quello precedente poi aggiungere qualcosa ricordiamoci della funzione super che mi permette di accedere alle proprietà e ai metodi della mia superclasse super serve solo per distinguere la funzione init della mia classe che chiamerai self punto init dalla funzione init della mia superclasse che si chiama anche la init ok in generale quando io creo una sottoclasse e ho un metodo definito nella superclasse lo posso chiamare benissimo come self punto nome del metodo madre per il meccanismo di ricerca che dicevo prima se non l'ho definito se non ho ridefinito questo metodo quando cerco dentro self non lo trovo lo andrò a cercarlo nella superclasse e lo trova quindi questa parola chiave super ci serve solamente di fatto quando abbiamo un metodo due metodi con lo stesso nome nella superclasse e nella superclasse allora devo distinguerli uno è self e l'altro è super altrimenti se voglio usare attributi o metodi che erano già definiti nella superclasse li chiamo come fossero miei self punto metodo eccetera qui c'è un esempio di quel frammento di codice che c'era nella slide precedente messo in un programmino di esempio per far vedere che cosa succede quindi avevamo la classe car che definisce uno due tre attributi pubblici per dire è un attributo privato o protetto quello con l'underscore l'abbiamo visto e poi definisce un metodo age poi abbiamo la sports car che è eredita da car car non è eredita da nulla quindi non ci sono le parentesi tonde sotto invece sports car eredita da car e decide di ridefinire il metodo init metodo init che in questo caso ovviamente prima di tutto chiama l'init della superclasse l'init della superclasse aveva bisogno di tre parametri color model year erano qua e quindi anche a livello di sottoclasse poverino dovrò avere questi tre valori altrimenti non so che cosa passare al mio init superiore poi ho un altro attributo speed che in questo caso essendo un'auto sportiva la metto sempre d'alto ad esempio e quindi creo qua due oggetti uno di tipo car e uno di tipo boss car la mia auto e l'auto del mio capo allora vediamo cosa viene creato qua nel mio programma stiamo definendo due quattro nomi due classi e due oggetti questi due nomi car sports car sono definiti dalla parola chiave class quindi sono classi gli altri due sono definiti dalle assegnazioni di inizializzazione in cui creo una variabile e la inizializzo con un oggetto allora dentro la classe car sono definite tre cose il metodo init il metodo age e qua avevo messo forse non avevamo parlato l'altra volta una definizione di una variabile al di fuori dei metodi quindi quando definisco questa classe lei mi crea un ambito un namespace si dice uno spazio dei nomi all'interno dei quali vanno a finire chiuso dentro la classe all'interno dei quali vanno a finire i nomi che definisco diciamo così indentati dentro la classe stessa quindi qui ho definito tre nomi due metodi due funzioni che sono metodi perché sono dentro una classe e una variabile che differenza c'è tra questa variabile wills e questa variabile self.color self.color è una variabile che in java la chiamavamo variabile distanza cioè è una proprietà degli oggetti mentre wills è una proprietà della classe quello che in java avremmo chiamato static cioè una variabile che è condivisa è unica e condivisa tra tutti gli oggetti di quella classe v ok? qualunque oggetto avrà una proprietà wills che è esattamente quattro e se lo andassi a modificare per una di queste auto in realtà viene modificato per tutte quindi sono delle variabili che sono di cui ne esiste una coppia sola per tutti gli oggetti della classe sono delle variabili condivise per tutti gli oggetti della classe le chiamiamo attributi di classe o class level attributes ok? mentre gli altri sono attributi di distanza attributi di oggetto quelli col self definiti nel limit quindi quando definiamo gli attributi di una classe normalmente definiamo gli attributi di distanza ma è anche possibile definire degli attributi di classe la differenza che vediamo che la definizione avviene fuori dal da qualunque metodo dentro diciamo così il corpo della classe stessa e infatti è definito dentro l'oggetto car in base alla regola di ricerca dei nomi che vi ho detto prima qualunque oggetto se su un oggetto cercassi self.mycar.wills lui va a vedere dentro l'oggetto mycar c'è una proprietà wills no perché self.wills non esiste e allora vado a cercare nella classe di cui ho definito e lo trovo qua quindi c'è tutto questo meccanismo di cui adesso vi ho dato dei cenni ma se lo andate a leggere sulla documentazione ufficiale l'algoritmo di ricerca dei nomi in python sono tre pagine perché ovviamente deve gestire molti casi particolari ma diciamo così la cosa buona è che alla fine il risultato ha senso e quindi ci si aspetterebbe dal punto di vista logico quindi qui abbiamo fatto una piccola parentesi sulle proprietà di attributi di classe quindi dentro una classe abbiamo detto ci sono questi tre nomi qua poi dentro l'altra classe sports car abbiamo definito solamente il metodo init e però lui si ricorda lo scrive qua in piccolo che questo estende la classe car quindi è un'altra informazione che in realtà è scritta dentro dentro sports car quindi vuol dire che ogni volta che chiamiamo un metodo o cerchiamo una proprietà su uno dei metodi di sports car se non lo trova qui lo andrà a cercare qui semplicemente nella definizione di classi non ci sono le variabili di distanza perché fino a quando non chiamo init fino a quando non viene eseguita la funzione quindi noi questi due oggetti qua li abbiamo creati fino a questo punto qua del programma la funzione init non è mai stata chiamata e quindi nessuno può ancora sapere al mondo quali saranno le proprietà di questa classe adesso chiamo mycar uguale car di ypanda e questo crea l'oggetto mycar quindi definisco la variabile mycar e la inizializzo col valore di questo oggetto qua che contiene queste quattro proprietà che sono self punto le varie cose self quindi io potrò scrivere mycar punto color e mi dice che il colore è white potrò scrivere mycar punto wheels non la trova qui la va a cercare qui e la trova mince4 potrò chiamare il metodo mycar punto age qui il metodo age è definito no allora vado a vedere se è definito nella classe sì allora lo chiamo quindi ciò che vedo su un oggetto è l'unione dei metodi e delle proprietà definite sull'oggetto più i metodi delle proprietà definite sulla sua classe più eventualmente quelli definiti sulle superclassi se ne ho su su fino in punta più qui non si vede i metodi delle proprietà definiti sulla classe object che è sottinteso così come anche in Java qui c'è una superclass che contiene tutto da cui scusate da cui tutti ereditano e che contiene ad esempio l'implementazione di default di rep di str cioè dei metodi base se noi non ridefiniamo il metodo str per un oggetto questo viene automaticamente importato dalla superclasse questo ce lo dice anche ce lo dice anche scusate qua devo ingrandire perché se no non si vede ma non mi ricordo mai qual è la combinazione di tasti eccola qua ce lo dice anche PyCharm la classe che abbiamo fatto la settimana scorsa vedete che quando ho definito str rep mi mette questo bersaglio qua che non vuol dire spara ma vuol dire ridefinito perché questa classe è questo metodo scusate override quindi ridefinisce il metodo str in object cioè object non è un termine come è il nome dell'oggetto padre di tutti stranamente una lettera minuscola va bene quindi se io non avessi definito questo metodo str tutte le volte che cerco di stampare qualche cosa chiamerebbe object.str la quale stampa l'indirizzo dell'oggetto come abbiamo visto la volta scorsa se lo ridefinisco quando chiamo questo su qualunque oggetto di quella classe o di le sue sottoclassi verrà eseguito quel codice quindi non si vede però in ogni caso nel momento stesso in cui definisco una classe poiché questa eredita da object si porta già dietro tutta una serie di cose definite ovviamente in modo molto standard molto leggero a specifico non può sapere l'object di che cosa avrò bisogno però perlomeno non mi dà metodo non found o qualcosa del genere il metodo c'è quelli di base quindi qua abbiamo creato ma questo l'avevamo già visto la settimana scorsa il nostro oggetto cara cosa succede quando creo un oggetto di una sottoclasse cosa succede succede che viene chiamato init della sottoclasse viene creato l'oggetto immaginiamo questa scatola qua vuota che è un'istanza della classe sportscar siamo sull'ultima riga del codice poi cosa succede quando io creo un'istanza che chiamo il metodo init il metodo init fa due cose chiama il metodo init della superclasse che definisce questi quattro attributi e che ci sono qua sis, color, model e year qui vengono fuori in ordine strano perché li metto in ordine alfabetico non in ordine di definizione quindi sis, color, model e year sono definiti dal metodo init che gira viene eseguito viene chiamato su un oggetto self della sottoclasse quindi sta questo self qui rappresenta l'oggetto l'istanza di sportscar non un'istanza della superclasse anche se è un metodo della superclasse sta lavorando sulla sottoclasse sul mio oggetto quindi super.init non vuol dire vai a inizializzare un oggetto della superclasse vai a fare le inizializzazioni che faresti sulla superclasse ma sul mio oggetto di sottoclasse e poi init continua e self.speed uguale a year va bene metterò un attributo in più che ha sportscar che non aveva car quindi questo è alla fine il tipo di oggetto che ci troviamo l'abbiamo costruito così nulla di sorprendente no? solo che capiamo un po' meglio il meccanismo lo vediamo meglio e più tardi però per ora vi dico questa frase una volta che ho costruito l'oggetto è più importante capire quali proprietà ha che non da quale classe derivi da quale classe si è stato creato questo è una differenza rispetto a quello che facevamo in Java ma lo vediamo tra un attimo un dettaglio nel caso di Python è possibile che una classe erediti da più superclassi contemporaneamente cosa che in Java è vietata ok? e infatti poiché in Java è vietata si sono dovuti inventare l'interface in Java ok? poi probabilmente ve l'hanno venduta in modo bello colorato ma il motivo per cui in Java esiste una cosa che si chiama interface è che è utile quando crea un oggetto decidere che questo oggetto deve avere i metodi di questa classe e anche quelli di quest'altra classe e anche le altre magari no? ma i progettisti di Java hanno deciso che l'ereditarietà multipla creava troppi problemi cioè fare un extends di più classi creava troppi problemi troppi conflitti di fatto c'avevo due costruttori quali dei due devo chiamare quale prima e quale dopo oppure solo uno oppure solo l'altro era un gran casino in realtà il casino peggiore c'era quando io avevo una classe che eredita due classi le quali a loro volta sono due sottoclassi di una classe unica comune la cosiddetta la cosiddetta a diamante o a rombo che crea una serie di casini semantici per capire come funziona allora i progettisti di Java imparando da quello che stava facendo il C++ che supportava e supporta l'ereditarietà multipla e creava un mare di casini hanno detto senti lascia stare l'ereditarietà la facciamo da una classe sola e poi qualcun altro sempre loro stessi hanno detto però come facciamo a dire che una classe è eredita da un'altra e poi anche è comparable cioè può essere passata a dei metodi che richiedono un oggetto comparable se fosse due sottoclassi direi ok questa qui è una cara è anche comparable quindi tutti i metodi che si aspettano la presenza di certi certi scusate sì tutti gli altri metodi che si aspettano la presenza di certi metodi in questa classe lo sanno che ci sono perché è un comparable allora si sono inventati queste interfacce che altro non sono che dichiarazioni di massima che ti dicono guarda tu devi implementare questi metodi che differenza c'è tra implementare un'interfaccia e ereditare una super classe che l'interfaccia non ha comportamenti non ha implementazione dichiaro solo c'è questo metodo lo devi implementare però poiché non c'è codice dentro l'interfaccia a differenza di una classe che c'è il costruttore deve averlo hai metodi se definisci un metodo lo devi implementare in un'interfaccia no e quindi hanno risolto questo problema dicendo se tu hai una classe che ne estende un'altra e extends qualcosa implements qualcos'altro i metodi sono tutti messi insieme della classe madre e delle interfacce che implementi ma gli unici di cui vai a copiare qui stiamo parlando di java copiare l'implementazione sono quelli della classe extends perché sono gli unici che hanno l'implementazione quelli che invece è resi dall'interfaccia li devi devi non puoi devi ridefinire tu perché dentro l'interfaccia non sono definiti ok c'è questo modo strano di lavorare strano particolare di lavorare no che i dispositivi di java hanno scelto in python non ci sono interface e se tu hai bisogno di combinare in una classe i comportamenti o gli insiemi di metodi o gli insiemi di proprietà di più classi lo puoi fare semplicemente ereditando da più di una adesso qua non entro troppo nel dettaglio perché anche qua ovviamente quei problemi che c'erano di cui vi ho citato prima che hanno spinto i progetti di java a fare certe scelte non è che qua sono spariti ci sono lo stesso e sono definiti tramite un algoritmo che si chiama NRO cioè l'algoritmo di ricerca dei metodi delle superclassi quindi se hai più superclassi da quali e ti do un metodo dove vai a cercarlo soprattutto in che ordine vai a cercarlo ma su questo direi che non entriamo nel dettaglio anche perché noi è molto improbabile che ci metteremo a fare gerarchie di classi complicate l'idea è che se io ho una classe che è eredita da due superclassi diverse la funzione super non sa cosa fare no? io prima ho chiamato super avevo una superclassi sola quindi sto chiamando init della mia superclassi car e se ne ho due di superclassi cosa fa super? allora non andiamo a leggere cosa fa super diciamo cosa si può fare per evitarlo io chiamo i costruttori per nome quindi l'init della mia superclassi car ho l'init della mia superclassi gadget e quindi li chiamerò o l'uno o l'altro tutte e due quale prima quale dopo lo decido io Python in questo è molto esplicito sei tu che devi chiamare init gli devi passare i parametri che vuoi non c'è nessuna chiamata automatica del costruttore della superclassi e quindi te lo gestisci tu l'hai voluto fare l'editaria multipla te lo lascio fare ma poi fai tu a mano se ci sono dei metodi o delle proprietà con lo stesso nome che derivano dalle varie percorse quindi se cercate il concetto di interfaccia non c'è grazie a questo meccanismo di iterità multipla in realtà vedremo tra proprio un secondo che non serve comunque nella maggior parte dei casi ricordiamoci anche perché serviva un'interfaccia in java pensiamo alla comparable no? che facile io ho un oggetto io voglio fare in modo che questo oggetto quando lo metto in una lista possa essere ordinata questa lista no? allora è necessario per poter chiamare il metodo sort su una lista che gli oggetti esseri in esso contenuti siano di un tipo che implementa comparable implementa comparable significa che al loro interno devono definire quel maledetto compare to un metodino di una riga ok? quindi sto facendo tutto sto casino definisco un oggetto qualunque che deve implementare un'interfaccia comparable che mi obbliga a definire il metodo compare to e quindi mi permette di passare quell'oggetto a dei metodi che ricevono nell'assignature che sono dichiarati come tipo il metodo sort che sono definiti su oggetti di tipo comparable poi ci sono i generics di mezzo che complicano ancora la cosa ma la sostanza qual è? è che se voglio chiamare sort devo avere un metodo compare to questa è la sostanza poi Java essendo un linguaggio fortemente tipizzato deve avere i costrutti nel linguaggio per obbligarmi a far sì che questo avvenga ok? quindi devo implementare un'interfaccia che col metodo eccetera eccetera ok questo poi è una tipologia di polimorfismo cioè io ho un metodo sort per dire che può lavorare su il metodo sort delle collection in Java che può lavorare su oggetti di vario tipo posso ordinare liste di numeri di stringhe di oggetti liste di array quello che volete purché l'oggetto che sto ordinando la sequenza di oggetti che sto ordinando sia fatta di oggetti che implementano quella interfaccia in Java si parlava così cioè quello stesso metodo fa la stessa operazione di alto livello metto in ordine ma la implementa in modo diverso a seconda del tipo di oggetti che riceve quindi è un metodo si dice polimorfico fa la stessa operazione concettuale ma la fa in modo diverso a seconda dell'oggetto perché chiaramente ordinare dei numeri ordinare delle stringhe non mi dà lo stesso risultato pensiamolo banalmente l'operatore più abbiamo visto una volta scorsa che l'operatore più non è altro che una sintesi semplificata per chiamare il metodo under add underscore add che è definito su tutti gli oggetti anzi sull'oggetto object ok però se io uso più tra due numeri faccio l'addizione se uso più tra due stringhe le concateno se uso più tra due array tra due liste le concateno anche qua aggiungo gli elementi quindi la stessa operazione concettuale ma implementata in modo completamente diverso a seconda dell'oggetto questo è una comodità è una cosa che è sempre presente nei linguaggi di programmazione a oggetti ok ok come veniva implementato il polimorfismo è un concetto generale non è un'istruzione del linguaggio come viene implementato il polimorfismo in Java e poi vediamo tra un attimo come viene implementato in Python in Java principalmente viene utilizzato attraverso le sottoclassi quindi o le interfacce cioè ti dicevano guarda che se io ho un metodo che richiede un oggetto di tipo A tu puoi passarmi a questo metodo a qualunque oggetto di una qualunque sottoclasse di A se poi questo oggetto ridefinisce un metodo che io uso allora lì scatta il polimorfismo perché quell'operazione viene fatta con un metodo che non è di A ma di una sottoclasse questo discorso sulle sottoclassi vale anche sull'interfaccia mi devi passare a un qualunque oggetto che implementi questa interfaccia l'altro modo l'altro meccanismo di far funzionare il polimorfismo in Java era quello dei metodi overloaded metodi sovraccaricati cioè io definisco in una classe due metodi che si chiamano nel stesso modo area ma ricevono oggetti di tipo diverso e allora Java sa benissimo quale dei due chiamare a seconda dell'oggetto che gli è passato se gli è passato un poligon o una sua sottoclasse chiamerà il primo metodo area se gli è passato un conico o una sua sottoclasse chiamerà il secondo metodo area chiaramente il metodo di calcolo dell'area per un ellisse è molto diverso da quello di un esagono ok ehm esempio numero zero è quando una classe ha più costruttori tu puoi servire un costruttore senza argomenti un costruttore con degli argomenti a seconda di come chiamano la new verrà usato il costruttore per due volte giusto questo lo può fare Java non lo potrà mai fare Python perché questi due metodi si chiamano nello stesso nome e differiscono solamente nel tipo di argomenti e il tipo è un concetto che non esiste in Python o meglio esiste sugli oggetti ma non sulle variabili quindi in Python questo tipo che P è un poligon e C è una conica non lo posso dire quindi non è possibile in Python avere due funzioni o due metodi con lo stesso nome quale metodo chiamare viene definito solo in base al nome e quindi il nome deve essere univoco punto mentre in Java parlavamo di signature del metodo che il signature è fatto dal nome più i parametri i tipi dei parametri non i nomi non veniva usato il valore di ritorno nell'assignatore e tra l'altro tutto il resto si poteva verificare in modo statico ok se questo meccanismo questi due meccanismi come si possono traslare in Python beh quello dei sottoclassici ancora abbiamo visto che ci sono le sottoclassici quello dei metodi overloaded no che era un altro modo che usavo per avere un metodo che faceva cose diverse allora in Python il polimorfismo si implementa con una tecnica che è comune a molti linguaggi di tipo dynamic typing tipizzati in modo dinamico tipo anche javascript ad esempio che viene chiamato duck typing no e tutto questo nome strano deriva da questo detto che se cammina come una papera e fa il verso della papera allora deve essere una papera ok magari non lo è ok è un gallo camuffatto da papera però a tutti gli effetti se a me interessa farlo camminare e fargli fare il verso che sia davvero una papera o che sia qualunque altro tipo di animale che cammina come la papera e fa il verso della papera lo posso usare come se fosse una papera quindi più che questo è il proverbio must be a duck deve essere deve essere nel senso che è come se fosse quindi poiché io non posso fare il controllo su un tipo di oggetto quando chiamo un metodo quando definisco un metodo decido che non mi interessa e decido di dirti guarda se tu mi passi un oggetto l'importante è che abbia questi metodi perché io nella mia implementazione chiamerò questi metodi del tuo oggetto e devi averli poi tu puoi essere un oggetto di qualunque tipo non mi interessa ma per chiamare questa funzione devi avere questi metodi punto ok devi camminare e fare il verso della papera o di qualche altro animale quindi il tipo di una classe o di un oggetto che istanzia una classe è meno importante rispetto ai metodi che esso definisce perché il controllo sui tipi Python non lo fa mai la classe la usa per costruire un oggetto ma poi è l'oggetto che vive che ha i suoi metodi che ha le sue proprietà e tra l'altro l'avevo già detto di sfuggita l'elenco dei metodi delle proprietà di un oggetto non si limita a quelli che definiscono dentro init le posso anche aggiungere nel secondo momento qualunque metodo può aggiungere attributi se gli servono quindi l'insieme di attributi di una classe di un oggetto è variabile quindi quello che io faccio quando passo un oggetto a una funzione o a un metodo è passare un oggetto di cui sono sicuro che questo implementi i metodi o abbia le proprietà parliamo di metodi più in generale però vale anche sulle singole proprietà abbia i nomi che servono alla funzione che gli ho passato ad esempio cerchiamo di capire come funziona questa cosa io ho una funzione pretty print la sono inventata così non è codice vero questo ok che è una funzione questa non è una classe è una funzione normalissima che riceve come argomento un data provider e poi da questo data provider che non sappiamo cos'è perché sono definito questa funzione non c'è scritto che cos'è non so di che tipo è perché python non lo prevede estraggo con un ipotetico metodo read data dei dati che sarà una lista sarà probabilmente e poi itero su questi dati e li stampo alla faccia del pretty print stampo il primo elemento ok allora se io guardo solo il corpo di quella funzioncina cosa mi interessa del data provider cioè l'unica cosa che mi interessa di questo data provider è che abbia un metodo che si chiama read data che riceve zero parametri qualunque cosa gli passi che abbia quel metodo può essere processato da questa funzione non gli faccio nient'altro al data provider non è che lo interrovo lo controllo e faccio i raggi x per vedere di che classe è ce l'ho mi chiamo un metodo e lo lascio stare ciò che mi importa duck typing è che quel metodo ci sia poi magari ci sia e sia possibile chiamarlo con zero parametri poi perché questa funzione funzioni guardate il giro di parole questo metodo quando lo eseguo sarà bene che restituisca una lista o un altro oggetto iterabile di liste a sua volta di cui posso estrarre il primo elemento perché se questo mi restituisce una stringa o un'altra cosa poi l'errore ce l'ho sotto oppure sotto ancora quindi però questo non lo posso controllare read data deve esistere dentro il data provider quindi questo vuol dire che questo metodo print io ho provato a pensare che si può chiamare su una data provider che sia un database che insomma immaginiamo di avere una classe database access che si collega a un mio database che è cosa che faremo più avanti nel corso e mi dà questo oggetto qui ipotetico inventato come dicevo qui dovevo stare in una slide quindi non ho potuto mettere il codice vero questo suo database sarà un mio oggetto di questa classe database access che dentro avrà la classe il metodo read data oppure magari all'inizio i dati leggo da un file quindi avrò un metodo file access che mi restituisce un oggetto di tipo file access che passo all'aperti print allora questo database access questo file access non sono imparentati non sono sotto classi di qualche cosa di comune non sono implementanti di qualche interfaccia possono essere cose completamente diverse purché entrambi implementino un metodo read data che restituisca dati formatati in quel modo per quello la frase che ho detto prima è più importante i metodi che implementi le proprietà che hai gli attributi che hai che non la classe a cui appartieni perché quella classe non viene mai controllata automaticamente questo va bene è un ragionamento che ci facciamo qui ipotizzando di costruire delle nostre funzioni ma ce lo ritroviamo adottato questo ragionamento in molte funzioni poi di libreria no? vabbè qui ho fatto degli esempi di implementazione di queste classi ipotetiche database access file access ma appunto la quarta parte vedete che non hanno nulla in comune ma in entrambi i casi hanno un metodo read data che restituiscono un risultato che è una lista di liste e anche qua qui lo fa con col metodo MySQL connector quindi si agganza il database qui lo fa semplicemente con con read lines ipotizzando che il file sia fatto giusto ok? fanno cose completamente diverse non sono per nulla imparentate questo può avere tutta una serie anzi deve avere tutta una serie di altre proprietà qui non le ho messe tutte self.tanta roba che ci saranno per gestire la connessione col database questo magari non ne ha bisogno questa non è un'implementazione completa della classe ma il pezzo di classe che mi serve per vedere che ridetta c'è e quindi in qualche modo usando un termine che viene usato nella documentazione l'oggetto che passo alla print print deve implementare un protocollo il protocollo è semplicemente un parolone per dire deve implementare questa serie di metodi che ti dico io quindi il polimorfismo in python si esplica dichiarando quali protocolli devono implementare gli oggetti che voglio usare in certi contesti poi in realtà se io volessi ho detto le classi non vengono mai controllate e poi ho aggiunto in automatico se io volessi una classe la posso controllare come? se ho un istante di un oggetto ho una funzione che si chiama is instance in cui posso verificare se quell'oggetto è un istante di una certa classe quindi io potrei fare is instance di class di car per dire e lui mi dice se quell'oggetto lì eredita è un oggetto di tipo car oppure è un oggetto di una classe che eredita in qualche modo da car lo posso fare ma ciò che ci suggeriscono diciamo quelli di python è cerca di non usarlo cerca di fidarti di più del duck typing e quindi accontentati dei metodi perché mai dovresti essere così pignolo da richiedere una classe di quel tipo lì un oggetto di quella classe o sotto classi quando in realtà ciò che a te serve è solamente poter chiamare due metodi accontentati di vedere i metodi poi è chiaro che se hai un oggetto di quella classe sei sicuro che abbia questi due metodi ma sta impedendo a chiunque altro nel mondo che non eredita quella classe di poter chiamare la tua funzione che magari potrebbe funzionare benissimo ok quindi poi è sempre un rischio come tutti i linguaggi a dynamic typing io quando ho una variabile mi aspetto che il primo parametro sia una stringa e se non lo è e se non è runtime error quindi se faccio una libreria magari è bene che io poi vada a controllare i parametri no? quindi se il primo parametro deve essere una stringa posso benissimo fare isInstant dell'oggetto str e così mi dice guarda il primo parametro è effettivamente una stringa oppure no ma se sono sicuro che deve essere una stringa altrimenti ragiono appunto su questi cosiddetti protocolli e questi valgono anche per le funzioni predefinite è un modo di pensare ad esempio la funzione length la funzione length la posso chiamare su una stringa mi dà il numero di carattere su una lista mi dà il numero di elementi su un dizionario mi dà il numero di entry su una tupla mi dà il numero di elementi su un set mi dà il numero di elementi ma saranno ben strutture dati diverse queste però tutte su tutte queste posso chiamare la funzione length e non ci ha mai dato disturbo questa roba qua perché posso usare la funzione length perché la funzione length in realtà può essere usata con qualunque oggetto che implementi il protocollo d'under length cioè qualunque oggetto che internamente implementi questa funzione questo metodo può essere passato alla funzione length quindi se noi al nostro oggetto car delle slide aggiungessimo non posso chiamare length di un'auto non ha senso ma se mai dovesse aver senso se noi definiamo questo metodo d'under length nella mia classe allora qualunque oggetto della mia classe può essere passato può essere passato come argomento alla funzione length se io domani mi invento una struttura dati nuova strana che ne so immaginiamo di implementarci una matrice sparsa una matrice sparsa è immaginate una matrice 100% che però abbia solo pochi elementi un po' qua un po' là allora io posso fare benissimo una lista di liste di 100 elementi per 100 avrò i 10.000 caselle sprecate perché poi ne so 5 o 6 che contengono dei valori tutte le altre non contengono nulla e quindi andare poi a cercare quei valori lì diventa complicato perché devo scandirmele tutte 10.000 mentre magari ho un'implementazione più efficiente in cui magari mi mantengo da qualche parte una lista delle posizioni che contengono valore un dizionarietto magari una lista di tuple ciò possiamo inventare quindi una cosa che concettualmente è grossa 10.000 ma praticamente per ragione di efficienza sarà grossa solamente 30 elementi ma questo sarà un mio oggetto che lo chiamerò una classe matrice sparsa può essere utile definire far sì che l'oggetto di tipo matrice sparsa possano essere chiamati dal metodo length e mi restituirà 10.000 perché quella è la dimensione della matrice indipendentemente da quanti elementi ha allora in quel caso implemento l'oggetto underscore underscore length scusate e gli faccio restituire numero di righe per numero di colonne indipendentemente dagli elementi che c'è dentro e quindi vuol dire in tutto il codine altre diciamo così procedure che magari stampino qualche cosa iterando fino alla lunghezza dell'elemento funzionano funzionano perché la funzione length l'ho abilitata sul mio oggetto quando voi fate un for for elemento in lista in dizionario eccetera in realtà il for funziona su qualunque oggetto che implementa il protocollo di iterazione quindi deve avere un metodo iter che restituisce un iteratore adesso oggi non mettiamo i dettagli sull'iteratore l'iteratore è poi un altro oggetto che in realtà implementa il protocollo next implementa il protocollo è un parolone ma vuol dire ha un metodo o due metodi che fanno quella cosa quando accediamo a una lista parentesi quadre indice quando accediamo a una tupla parentesi quadre indice quando accediamo a un dizionario parentesi quadre chiave le parentesi quadre cosa fanno? chiamano un metodo get item quindi io posso volere alcune librerie matematiche che lo fanno ridefinire come si comporta le parentesi quadre su un mio oggetto semplicemente definendo in quell'oggetto il protocollo get item e così via with ricordate forse l'istituzione with che la usavamo al primo anno per aprire i file with open del nome del file e ci dicevamo sì figo perché così quando esco dal contesto del with il file viene chiuso automaticamente with è un'operazione che si chiama un costrutto che si chiama context manager che permette di identificare un punto in cui viene aperto e chiuso un contesto che parola strana cosa vuol dire? vuol dire che l'oggetto che uso con with implementa il protocollo di context manager che è fatto di due funzioni enter e exit quindi è un oggetto che quando entro nel with viene chiamato il metodo enter su quell'oggetto quando esco dal with viene chiamato il metodo exit cosa fanno questi due metodi enter exit lo decidiamo noi lo decidiamo noi sui file il metodo enter in realtà chiama la open e il metodo exit fa il close del file e così via quindi ci sono una serie una manciata non sono molti di più non vi ho messo quelli un pochino più esoterici di protocolli predefiniti che però ci fanno capire il modo di pensare del duck typing io qui ho una funzione qui addirittura con la funzione ma addirittura non solamente con la funzione l'engan è una funzione uno può dire una funzione l'implemento in modo strano ma addirittura i pezzi di sintassi del linguaggio cioè la parentesi quadra l'indicizzazione tra l'altro getItem non solo mi abilita la parentesi quadra ma mi abilita tutti i metodi che si basano su questa quindi find ad esempio index e così via quindi questi sono protocolli predefiniti nessuno ci vieta di definire i nostri protocolli quando ci servono quindi riassumendo tornando un po' alle cose più più semplici sul discorso sull'idealità ci serve fino a un certo punto il discorso sui protocolli sul polimorfismo come dicevo noi non andiamo a implementare librerie di classi però per capire come funzionano certi metodi dobbiamo tenere questo a memoria non c'è guida nel senso che se io dichiaro una classe che è implements comparable in java e mi dimentico di scrivere il metodo compare to o lo scrivo con la signature sbagliata non mi compila il programma ok quindi ho lo static typing i tipi statici di java mi proteggono in un certo senso dal dimenticarmi certi pezzi qua non c'è questa protezione per cui se io voglio implementare un protocollo me lo devo implementare e devo ricordarmelo io quali metodi devono essere implementati ho meno sintassi a con cui fare i conti ma è un pochino più devo fare un pochino più attenzione io direttamente allora quindi un oggetto per comportarsi bene tra virgolette per interagire bene con gli altri oggetti abbiamo adesso che abbiamo questo linguaggio per giocare polimorficamente con i costrutti del linguaggio deve implementare una serie di protocolli la cosa qua lo potremmo già dire l'altra volta oggi l'abbiamo detto con paroloni un oggetto per comportarsi bene deve avere un metodo init che ovviamente definisce una serie di proprietà gli diamo un repr e magari un str per poter stampare ci vorrà un metodo equal se vogliamo confrontare oggetti probabilmente avremo bisogno anche di un confronto maggiore o minore se ha senso per quel tipo di oggetto allora in quel caso definiamo implementiamo anche il protocollo less less or equal o less than se vogliamo non abbiamo ancora parlato perché non abbiamo ancora parlato di tabelle di hash ma se vogliamo che questo oggetto sia utilizzabile in costrutti che usano diciamo così funzioni di hash al loro interno che sono i set edizionari tra quelli per definiti allora dovremmo implementare anche la funzione hash e così via e poi eventualmente metodi setter getter per gli attributi se vogliamo controllare l'accesso agli attributi come abbiamo detto la volta scorsa perché altrimenti per default sono all'accesso pubblico quindi tutti gli oggetti alla fine dovranno portarsi dietro a questi metodi qua più quelli che ci servono allora noi siamo concentrati sugli ultimi quelli che ci servono che definiscono il comportamento tutti questi sono tra rigolette necessari perché quell'oggetto possa essere utilizzato dentro una print dentro un uguale dentro un ciclo eccetera eccetera ma questo non ci stupisce perché anche in Java eravamo abituati definivamo le proprietà e poi ci avevamo già senti ci sono di noi un po' tutti i setter e i getter il costruttore e il to string c'erano delle funzionalità ma di Eclipse usavamo Eclipse per farci generare però poi nel codice c'erano in Python esiste una scorciatoia anche per questo che prende il nome di data class ve lo cito perché risparmia tempo cioè tutti questi metodi standard possono essere implementati in automatico dichiarando che una determinata classe è una data classe perché si chiama data class perché questi metodi alla fine servono per gestire quell'oggetto come un dato come un record di dati tutti questi metodi se ci vadiamo non danno comportamento all'oggetto ma danno semplicemente come interpretare il suo valore come fossero dei dati se non ci servono dei metodi aggiuntivi per specificare il suo comportamento in realtà bastano solo questi metodi qua se il nostro oggettino qua questa classe voto che metodi ha? nessuno vabbè STR repre sono metodi di cittadinanza questi no? init anche cosa fa questa classe? è semplicemente è una casetta che serve per tenere insieme una serie di attributi correlati a questo ci serviva le abbiamo messi insieme in una classe anziché come avevamo fatto il primo anno creando un dizionario con queste chiavi qua come stringa però poi dobbiamo ricordarci di scrivere giusto invece qua le abbiamo esplicitate come oggetto ci faceva comodo mettere come classe e vederli come proprietà di un oggetto ma poi il prezzo che abbiamo dovuto pagare è definire una serie di metodi accessori questo è ciò che ci risparmia data class data class tecnicamente è un decoratore ha una sintassi particolare che inizia con la chiocciola e va messo prima di una dichiarazione quindi data class class quindi io definisco questa classe decorata con decoratore data class cosa è un decoratore non credo che andiamo a approfondirlo in questo corso qua ma alla fine è una funzione che prende altri oggetti e li trasforma una funzione che trasforma funzioni e una funzione che trasforma classi una funzione in questo caso data class è una funzione che prende una classe fatta in un certo modo e restituisce un'altra classe non andiamo a ancora chiederci come viene implementata chiaramente sono costrutti che vanno a pescare profondamente dentro la struttura del linguaggio perché si devono trasformare creare una classe sulla base di una classe esistente devono capire come è fatta e capire come trasformarla ma dal punto di vista dell'utente ci interessa poco ci interessa che quando io vado a decorare una classe col decoratore data class che va importato da questo modulo data classes quindi ci vuole questo import davanti sto generando automaticamente il metodo il metodo il metodo str il metodo rep eccetera eccetera una serie di metodi sulla base degli attributi che gli dichiaro questi attributi vengono dichiarati in un modo strano con una sintesi particolare uno per riga e poi una dichiarazione del tipo che assumono questi attributi qua detto tra di noi quel tipo viene ignorato ovviamente in python il tipo di un attributo non esiste perché quella è una variabile di tipo dipenderà poi dal valore che ci metto dentro viene ignorato durante l'esecuzione del programma viene usato dall'ambiente di sviluppo eventualmente per segnalarci dei warning c'è tutta la parte di di type hinting di python cioè la possibilità di dichiarare il tipo presunto di una variabile di un parametro che viene controllato solamente dall'ambiente di sviluppo solo dall'editor poi in fase di esecuzione viene totalmente ignorato però a volte può essere comodo dichiarare mi aspetto che lì ci sia una stringa mi aspetto che lì ci sia una lista allora c'è tutta una sintesi sul type hinting si parla di hinting perché da solo i suggerimenti ma non influenza l'esecuzione del programma ecco le data class si basano su questa sintesi qua allora cosa vuol dire vuol dire che la nostra classe voto che avevamo definito prima come data class l'avrei potuta definire semplicemente come data class ovviamente mi dice che non c'è e quindi dovrò importare se è abbastanza furbo da qua quindi mi faccio scrivere questa istruzione e dopodiché posso definire la mia classe voto dichiarando questa è una classe come tutte le altre quindi può avere i metodi che voglio può avere l'init può avere str posso definire ciò che voglio partendo però da una base di metodi già definiti sulla base degli attributi quindi dicevamo commentiamo tutta questa roba qua e la ridefiniamo dicendo questa è una data class che ha come attributi esame che si presume sia una stringa poi che avevamo cfu che è un intero poi abbiamo punteggio che è un intero poi abbiamo load che è un boolean poi abbiamo data che per ora è una stringa quindi quindi è un po' l'elenco degli attributi che avrei messo dentro il metodo init messi semplicemente uno per riga e poi con questo due punti è tipo valore tipo di dato presunto allora avendolo ridefinito così in teoria il programmino che abbiamo scritto la volta scorsa continua a funzionare però ho perso il bottone run ah no qua sotto si stampava la media e continua a stampare abbiamo definito se però vediamo un attimo quando faccio stampa cosa fa mi ha definito la funzione rep nella sua sintassi più lunga quindi nome della classe tra parenti degli argomenti del costruttore e per chiarezza anziché passare solo per ordine primo, secondo, terzo argomento ci ha messo ha specificato anche il nome in python si può passare un argomento anche per nome così è più facile esame uguale cfu uguale sono opzionali questi se li passano nell'ordine giusto allora se noi avessimo dovuto scrivere il metodo rep che stampava questo c'erano un pochino lo sconforto un fstring devi mettere le cose dentro ci viene gratis quindi è così come è anche stato definito probabilmente il metodo equals per confrontare se due volte sono uguali adesso poi in realtà il metodo equals forse non sappiamo qual è il criterio con cui considerare due voti uguali sono uguali se è uguale il punteggio o la data o il nome beh questo andrà ridefinito da noi poi quindi da qua in avanti qui diciamo che con una riga di codici mi sono fatto la classe con i suoi metodi principali da qua in avanti posso definire altre proprietà altri metodi quindi se mi fa piacere quindi questo ci aiuta quando tutte le volte che dobbiamo costruire una classe solamente per avere un luogo in cui diciamo così tenere insieme dei valori poi la la documentazione di data class ci spiega meglio e abituiamoci anche a andare a leggere la documentazione ufficiale perché talvolta dice questo modulo data class fornisce un decoratore delle funzioni per aggiungere automaticamente i metodi speciali come init e repl alle tue classi e qui ti spiega come funziona e ti dà anche una serie di opzioni qui noi abbiamo scritto data class senza nessun argomento ma volendo potremmo aggiungere degli argomenti dei parametri per personalizzare il modo in cui questa data class funzioni quali metodi vuoi che io ti crei vuoi che ti crei che ti definisca init per default c vuoi che ti definisca rep per default sì ma se non lo voglio metto false scrivo rep uguale false e l'uno me lo crea ti definisci equal sì vuoi che sia ordinabile questo oggetto quindi definisca maggiore minore per default no ma se voglio glielo chiedo e così via frozen è carino perché se definisci una data class con frozen uguale false è normale frozen uguale true i suoi argomenti non sono modificabili quindi non definisci nessun setter e quindi crea un oggetto i cui valori non sono più modificabili un oggetto immutabile e può essere comodo avere un oggetto immutabile nei contesti in cui serve un oggetto immutabile e così via poi se andate a vedere il resto vi spiega con calma i vari la rep sì se lo vuoi creare lo crea in questo modo se la tua classe definisce già rep questo parametro viene ignorato quindi vale sempre se tu definisci il tuo init allora lui automaticamente non genera l'init l'equal cosa fa l'equal? confronta la classe gli oggetti della stessa classe come se fossero una tupla dei suoi campi in ordine però vuol dire questa frase vuol dire che viene definito un metodo che se il nome dell'esame che ho messo per primo è uguale considera i due esami uguali no, perdono se il nome degli esami sono diversi considera i due esami diversi se i nomi sono uguali va a vedere il CFU se i CFU sono uguali se sono diversi considera diverso se sono uguali va a vedere il punteggio se sono diversi li considera diversi se sono uguali va a vedere la lode e così via quindi in qualche modo sta confrontando tutti i campi e devono essere tutti uguali tra i due oggetti altrimenti se c'è almeno uno diverso vi considera gli oggetti diversi che forse un po' troppo magari noi ci accontentiamo di controllare solamente il nome dell'esame per vedere se sono uguali perché tanto non potremmo mai avere due voti diversi per lo stesso esame e allora ci definiamo la funzione equals come piace a noi e non ce la facciamo generare automaticamente e così via order di genere minore 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 uguale maggiore maggiore uguale considerando i metodi nell'ordine il confronto tra i vari attributi nell'ordine in cui sono definiti se l'altro che è interessante è frozen poi gli altri non li commentiamo se lo metto a true cercare di assegnare un valore ai vari campi genera un'eccezione quindi di fatto rende impossibile settare un attributo e quindi ma ci può servire però ho un oggetto di cui sono sicuro che nessuno può modificarne i valori possono solo essere inizializzati nell'init e anche il metodo init noi non ce ne siamo accorti ma quando abbiamo chiamato creato nuovi oggetti gli abbiamo abbassato questi cinque parametri perché c'è stato definito automaticamente un metodo init con quei cinque parametri in quell'ordine lì ok allora questo è un pochino se vogliamo il vademecum di come giocare con gli oggetti in python le cose essenziali poi la programmazione di oggetti più profonda quella appunto con le con le gerarchie di classi le annotazioni dinamiche eccetera richiederebbe ma andrebbe anche al di fuori di quello che è lo scopo del corso che abbiamo dichiarato all'inizio di essere il tipo più pragmatico cioè impariamo a risolvere dei problemi questo ci serve come base di partenza e con un po' di scorciatoia come dire per riuscire a a implementare più rapidamente ciò che ci serve io dunque che ora si andrei ancora avanti un attimo perché voglio interdurvi un altro argomento che è semplice però altrettanto utile lo spetteremo a cavallo di intervallo che è quello di molto pratico di organizzare programmi di una certa dimensione noi adesso abbiamo un programmino stupido che fa il libretto dei voti e sono 20 righe di codice in un file solo ma quando il nostro programma comincerà a crescere come dimensioni avremo la voglia di separarlo in più file diversi magari una serie di classi che creiamo in un progetto la vogliamo riusare anche in un altro progetto allora come facciamo a fare a gestire queste cose noi sappiamo che c'è un'istruzione import che ci permette di importare dentro un nostro progetto delle funzioni dei moduli delle classi definite nella libreria standard o qualche altro modulo ma come possiamo farlo con le nostre classi ok allora java come sempre è molto rigido su questo una classe uguale a un file 10 classi uguali a 10 file cioè ogni file deve contenere una dichiarazione o di classe o di interfaccia qui non abbiamo questo vincolo sta a noi possiamo se prendiamo l'istruzione class la possiamo mettere dove vogliamo quante volte vogliamo nello stesso file java ha il concetto di package definisco importo una classe da un package eccetera anche python ha un concetto di package anche se lo implementa in modo leggermente diverso allora tutto ruota intorno al concetto di modulo il concetto di modulo è una raccolta di dichiarazioni di classi funzioni variabili che posso importare è un modulo è un file python che definisce delle cose terra a terra molto semplice qualunque file python che contenga all'interno delle definizioni e definire cosa possono essere di variabili costanti o variabili funzioni des classi classi posso scrivere questo file e posso accedere alle funzioni o alle classi definite in quest'altro modulo semplicemente importandolo in un altro programma principale quindi l'istruzione import cosa fa va a leggere un altro file e fa sì che tutto ciò che è stato dichiarato nel secondo file sia accessibile dal primo facendo attenzione che i nomi delle variabili o delle funzioni definite nel secondo file nel file importato non vadano a far collisione con nomi di variabili o funzioni o classi che sono definite nel mio file o in altri moduli che sto importando in quel momento quindi in realtà ciò che fa l'istruzione import è un lavoro duplice crea un namespace uno spazio di nomi importati che è diverso dallo spazio di nomi che definisco io nel mio programma e popola questo namespace con le definizioni che sono state create dall'esecuzione di quell'altro modulo che sto importando poi in pratica vediamo è molto semplice come sempre le affermazioni generali sono giuste ma sono un po' difficili da digerire quando scriviamo import che cosa possiamo importare? beh possiamo importare e l'abbiamo già fatto mille volte i moduli della libreria standard che altro non sono che file python che qualcun altro ha scritto in realtà alcuni di questi non sono scritti in python sono scritti in c per ragioni di efficienza ma poco ci tocca è sempre possibile importare un modulo della libreria standard perché in quanto standard è sempre disponibile sono sempre disponibili ok? oppure posso importare dei moduli definiti da me stesso user me stesso o qualcun altro che mi abbia dato il file se sono al di fuori delle librerie sono implementati da qualcuno di noi quindi il mio esorgente è che ho messo nel mio progetto da qualche parte quindi mi posso creare dei moduli e me li posso importare da solo per organizzarmi meglio il codice anziché avere un failone unico perché normalmente se ho due file non posso da un file accedere alle classi definite nell'altro devo prima importarlo e poi usarlo oppure posso accedere a dei moduli che sono scaricabili da questa grossa collezione PyP il link non mi è funzionato ma lo scrivo a mano che è di fatto il repository Python PyP sta per Python Package Index oltre ad essere praticamente impronunciabile ma come vedete qua ci sono più di 500.000 progetti fatti da qualcuno pubblicati messi a disposizione alcuni fanno schifo alcuni sono piccolissimi alcuni sono grandissimi c'è un po' di tutto sono ricercabili se conosci il nome oppure per il tipo di argomento che implementano eccetera eccetera ad esempio quando noi tra qualche settimana tra due settimane vedremo di costruire delle interfacce grafiche useremo una libreria che si chiama Flat ad esempio che poi vi racconteranno come funziona quindi su questo archivio ci sono tutta una serie di progetti appunto non li possiamo conoscere tutti sono 500.000 sono là però se io adesso dal mio codice provo a scrivere Import Flat oppure Import MariaDB per quando accederemo al database mi dice non ce l'hai deve prima essere perché non c'è sul mio computer devo prima installarlo dal repository e poi dopo lo posso importare ok? quindi sono queste tre casistiche la più semplice me la faccio da solo allora il nostro esempio no? avevamo il nostro programmino che definiva questo libretto dei voti e noi possiamo pensare che queste classi che stiamo definendo per ordine per organizzazione del codice le mettiamo in un file separato quindi pensiamo di mettere dentro un file voto.python o libretto.python come vogliamo le nostre classi che abbiamo prima definito con magari delle costanti che definisco qua dentro magari delle funzioni che definisco lì dentro ok? quindi una serie di classi e funzioni correlate le metto in un file a parte questo file a parte chiamiamolo modulo non ha un suo main non ha un suo programma principale non fa niente contiene solo delle definizioni semplicemente mi mette a disposizione questa serie di classi classi questa serie di per essere corretto dovrei dire questa serie di nomi e questi nomi possono essere nomi di variabili nomi di classi nomi di funzioni ok? tutti i nomi che il modulo definisce qui c'è scritto al top level quindi non i nomi che sono dentro le classi e nelle variabili locali delle funzioni ma solamente i nomi che definisco a livello più esterno del mio codice vengono resi visibili al mio main.py che ha fatto l'operazione di import ok? quindi proviamo a fare questa operazione qua sul nostro esempietto allora questo libretto .py lasciamolo tranquillo abbiamo detto creiamo una classe un modulo che è sempre un file python che chiamo voti .py voti l'ho chiamato lo stesso i nomi delle slide per non far casino voto .py vedi che mi ero già sbagliato lo aggiungo al git sicuramente e dal libretto copierò vabbè questo sicuramente ah qui ho usato l'istruzione import dal modulo data class che è un modulo della libreria standard quindi non mi sono creato problemi poi copiamo la classe voto che abbiamo definito qua poi copiamo la classe libretto che abbiamo definito qua questa non è una data class perché quasi quasi non contiene quasi dati ma contiene metodi per lavorare su questi dati potrei anche dichiararla come data class ma non mi serve un granché perché mi renderebbe accessibile voti che è proprio la variabile che non voglio rendere accessibile nel costruttore o nei getter o nei setter quindi in questo caso lo creo come classe normale non uso la scorciatoia delle data class quindi qua ho definito queste tre cose no due cose voto e libretto e se io provassi a fare run di questo file non fa niente non è proprio vero che non fa niente definisce queste due classi ma poi non ci sono istruzioni eseguibili qua sotto un modulo serve per definire cose ok poi magari ho bisogno voglio fare il mio programma principale che usa le funzioni definite nel modulo allora mi creo un altro file separato main.py che userà quindi posso fare un import voto import voto cosa fa? legge esegue scusate il file voto.py il nome del modulo qui è uguale al nome del file che sto leggendo quindi import voto è una cosa molto semplice lui prende quella parola lì voto ci aggiunge pi sotto e cerca di leggere un file con quel nome lì in prima battuta lo cerca nella cartella corrente se non lo trova lo cerca da altre parti tipo nella libreria standard insomma c'è un algoritmo anche qua di ricerca quindi io posso eseguire questo main che di nuovo non fa nulla o meglio ha fatto qualcosa ciò che ha fatto è quello di infatti mi accorgo perché se io anziché questo scrivo un nome sbagliato mi dice che questo modulo non è stato trovato quindi il fatto che non mi dia errore vuol dire che comunque qualcosa ha fatto cosa ha fatto ha creato uno spazio dei nomi che si chiama voto e dentro questo spazio di nomi ci ha messo i nomi definiti all'interno del modulo i nomi definiti all'interno del modulo non è che lo sa per scienza infusa ma perché ha eseguito il codice del modulo e dove c'è scritto class ha salvato un nome dove c'è scritto libretto ha salvato un nome quindi import cercan file lo esegue si salva i nomi definiti e li mette in un namespace separato che si chiama voto infatti se io provassi vediamo un po' se riesco a scrivere semplicemente niente ma mettici un breakpoint davanti giusto per riuscire ad eseguire un debug questa roba ok dovrei avere quindi ho eseguito il programma in debug sono fermo qui ma perché ho già eseguito l'istruzione import quindi voglio vedere cosa ha fatto l'istruzione import se vado a vedere il modulo che si chiama voto contiene allora qui ci sono tutte le variabili definite nel programma una di queste è voto cioè il nome del modulo quando importo un modulo mi crea un nuovo nome che è il nome del modulo il quale contiene se vado a vedere dentro libretto e voto quindi contiene una classe voto.voto una classe voto.libretto il nome delle classi che sono definite saranno dati dal nome del modulo punto il nome dell'oggetto il nome della classe in questo caso questo vuol dire che io posso creare un nuovo voto voto 1 creando voto.voto gli devo passare tutti i parametri il nome esame i cfu che sono 8 poi il voto che è 28 la lode che è falso e la data che è oggi 2024 0311 a questo punto potrò fare un print di B1 quindi uso all'interno del mio programma main ecco qua me l'ho stampato sotto usando la rep e non la str la data class non definisce in automatico la str perché non può sapere cosa vogliamo noi come la proprietazione estetica definisce solo la rep e in assenza della str ovviamente viene chiamata rep se vogliamo ripersonalizzarla dobbiamo andarci nel modulo a definire la funzione str quello che possiamo fare se l'abbiamo già basta fare copia e incolla però ciò che è successo è abbiamo voto che è un contenitore di nomi e i nomi sono esattamente quelli definiti nel modulo fine in questo modo possiamo accedere a questi nomi come se fossero nostri in realtà l'istruzione import ha varie forme varie sfumature la più semplice è quella che abbiamo appena usato import nome del modulo quindi lui importa nel mio namespace cioè il mio programma main vedrà solamente un nome il nome del modulo voto e poi i nomi definiti nel modulo sono sotto proprietà del nome del modulo quando importiamo mat per usare il seno seno di pi greco faremo mat.sing di mat.p se ho importato mat che al suo interno definisce il seno la funzione sen non è visibile a me è visibile dentro il modulo mat che ho importato quindi prima devo importare mat altrimenti il nome mat qua sarebbe un nome sconosciuto mi direbbe errore ma importare mat significa definire una serie di funzioni che quindi sono accessibili come proprietà e infatti da sentarsi punto come proprietà dell'oggetto mat quindi anche i moduli sono oggetti ma questo sta nella legge di python che tutto è un oggetto se volessimo potremmo quando importiamo un modulo cambiargli il nome soprattutto mat è quattro lettere voto è quattro lettere ma se avessimo un modulo con un nome molto lungo per esempio quando faremo i grafici ci sarà una funzione un modulo che chiama matplotlib è lungo così oppure una cosa che usiamo molto spesso un modulo che useremo molto frequentemente magari vogliamo accorciarlo qui ci sono la possibilità di rinominare il modulo quando lo chiami ad esempio il modulo cmat che anche questo è la libreria standard che contiene le funzioni matematiche in campo complesso quindi il seno complesso la dice quadrata complessa eccetera eccetera perché i numeri complessi sono predefiniti dentro python però così come le funzioni del modulo mat lavorano sui numeri reali le funzioni del modulo cmat lavorano sui numeri complessi e restituiscono numeri complessi quindi la radice di meno 1 la posso fare in campo complesso potrei fare import cmat e scrivere cmat.sqrt oppure se devo fare tante operazioni con numeri complessi cmat scriverlo ogni volta è noioso gli do un nome abbreviato in questo caso c es rinomina quindi si usa per risparmiare caratteri caratteri per scrivere più in fretta ma non ha altri scopi non cambia il significato di nulla l'import di un modulo importa definisce un nome solo ok il nome del modulo mac vuoto o il nome cambiato di quel modulo lì tutti gli altri nomi li devo accedere tramite il punto oppure se voglio posso andare a importare selettivamente alcuni nomi e renderli direttamente disponibili è quello che abbiamo fatto con i data class qui abbiamo importato questo statement è diverso from data classes import data class allora import data class è no è il contrario scusate io avrei potuto scrivere import data classes che è il modulo fatemi commentare questa linea e ovviamente data classes è il nome del modulo che contiene al suo interno l'oggetto data class la funzione data class quindi avrei in questo caso dovuto scrivere data classes punto data class perché funzionasse mi sta cercando di dire qualcosa vediamo solo questo quindi normalmente la sintassi dei moduli è questa importo il modulo e poi vado a pescare il nome che mi serve all'interno del modulo e evita ogni confusione è possibile però dire guarda questo nome qua io lo uso più volte e so che non fa conflitto con le mie variabili quindi per favore dammi il nome direttamente l'oggetto che mi serve senza dover andare ogni volta a pescare dal modulo e questo è ciò che fa lì la sintassi con from dal modulo importami questo nome quindi come avevamo scritto prima pesca dal modulo data classes il nome data class e mi rendi disponibile direttamente il nome data class senza bisogno di metterci davanti il punto quindi ad esempio dal modulo mat importami pi greco seno e coseno e se ho fatto a questo import la funzione sen la posso usare direttamente senza scrivere mat.sen poi sono io che non devo far casino importare anche la funzione sen dal modulo complex mat da cmat per cui alla fine non so più quale se ne sto chiamando se è quello reale o quello complesso cioè il rischio di importare il nome singolo è che quel nome possa già avere un significato nel mio codice o in altri moduli che sto importando allora che la confusione però se sono delle funzioni di uso comune lo posso fare devo solo fare attenzione volendo posso anche rinominare il nome ma anche qua è lavoro in più distinto io direi la cosa più semplice è questa eventualmente abbreviando il modulo però se volete potete importare direttamente il nome e vi risparmiate di ogni volta che vi serve quella funzione o quello di metterci davanti il nome del modulo c'è anche questa sintesi qua da cui però vorrei rimanere lontano del tipo importami tutti i nomi di un modulo e mettimeli direttamente disponibili però se io faccio from, mat, import, asterisco mi tira giù 40 funzioni diverse e veramente se non te le so elencare in ordine alfabetico a memoria non sono mai sicuro se non sto sovrascrivendo il nome di una mia funzione o di un mio modulo quindi è abbastanza sconsigliabile importare di bot una serie di nomi che poi potrebbero andare in conflitto con altri quindi la sintesi lo permette ma è sempre soprattutto lavorando in ambiente di sviluppo che quando usi un oggetto ti scrive l'import da solo importando già esattamente le classi o i nomi che ti servono l'asterisco è una pigrizia veramente inutile ok direi che questo è un momento per far pausa poi cerchiamo di capire un po' meglio come si scrivono questi nomi in questi moduli facciamo fino al 10.25